Insalata di mele e finocchi con noci. L'insalata di mele e finocchi con noci è un piatto leggero e saporito, perfetto per un pranzo invernale. La freschezza dei finocchi si unisce ai sapori dolci delle mele in un mix di sapori e consistenze che vi conquisterà. 2 finocchi, 2 mele, 50 g di noci. 1 cucchiaio di succo di limone. 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Sale QB. Pepe QB. Lavare e asciugare i finocchi, quindi tagliarli a fettine sottili con una mandolina. Pelare le mele e tagliarle a fettine sottili. Mettere le fettine di finocchio e le mele in una ciotola capiente, aggiungere le noci tritate grossolanamente e mescolare. In una ciotolina, preparare una vinaigrette con il succo di limone, l'olio di oliva, il sale e il pepe. Versare la vinaigrette sull'insalata, mescolare bene e servire.